Non lo so se si riapre, onestamente, perché continuo a pensare in maniera logica che soltanto l'Inter lo possa perdere. Però insomma, se in maniera logica penso che soltanto l'Inter possa perderlo, però se lo perde, noi ci vogliamo stare là dietro. Questo è il discorso nostro, per cui domani sarà una partita fondamentale, cruciale. Potrebbe essere l'inizio di un nuovo campionato per noi. Noi dobbiamo rispettare l'Inter perché quello che pensiamo è quello che ci ha dimostrato in questi anni. Però dobbiamo essere consapevoli che abbiamo il dovere di provare, di provare a vincere domani e vedere poi andare avanti giorno dopo giorno. Domani si può aprire un nuovo capitolo in questo campionato e noi vogliamo esserci, vogliamo far bene. Questo senza illudere i nostri tifosi, però i nostri tifosi devono sapere che ci stiamo e tireremo fuori tutto quello che abbiamo dentro. Le domande di Totti. Quando, secondo lei, visto che parla progettore, è previsto il suo ritorno? Io credo che stia bene. Stia bene. Può darsi che già dalla prossima settimana possa tornare in campo. Però quello che gli sto dicendo è di non accelerare, di far bene tutte le cose. Troppe volte abbiamo accelerato, troppe volte abbiamo fatto proprio perché era Francesco, proprio perché lui ha sempre questa gran voglia. Sta vicino, sta vicino, ma ecco non gli voglio mettere troppa fretta. Cosa risponde a chi sostiene, a chi pensa che contro il Milan la Roma potesse fare di più? Se deve fare meno pippe mentale. La Roma ha fatto il massimo.